Che cazzo dici? Quanto ha perso? 50.000, Marie! Ha perso 50.000 euro stavolta! Brava, brava! Denunciami allora, denunciami! Va a far culo, va! L'ho sempre tenuto fuori dagli affari di famiglia! Ma che cazzo si è entrata? Ecco, lasciamo andare! Rimboccate le maniche! Fai quello che ho fatto io prima!